Padre nostro siamo qui nella nostra povertà davanti a te Tu che di ogni cuore sai storie, luci, lacrime e verità Dacci il tuo perdono che ci risana l'anima con la tua pace Ciao Padre Gigi, questa è Sahel di Gaza voglio dire in questo video che stiamo vivendo in una situazione molto terribile perché della guerra è il giorno 81 del guerra qui qui Siamo in Raffa e viviamo in un posto che non è abbastanza per il mondo che vivendo qui ma alla fine vi auguriamo a te un piacere felice e siamo amati Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori Padre nostro, aiutaci a perdonarci non per dimenticanza, debolezza o indifferenza non perché quello che è grave è senza importanza o perché è bene quello che è male ma col coraggio estremo e la libertà di accogliere l'altro così come... Nonostante il male che c'è... Siamo a Gaza, in questo ospedale, che è un ospedale cristiano e stiamo andando a vedere il luogo dove hanno richiesto noi un aiuto sono molto onorato di avere con noi la direttrice Sukaila e poi abbiamo Amal che è la nostra rappresentante qui Per comporre in terra un firmamento stelle sopra il valo doni povertà e l'unità Non lasciarti vincere Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!